Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata delle Mirabolanti Avventure di Jason Brodino Il mio nome è come sempre Quit108 e a sto giro direi che faremo la missione del ricercato che c'è da fare E poi andremo a prendere questa torre e magari faremo uno di questi avamposti Che ne pensate? Secondo me potrebbe essere una cosa carina Let's go Sì lo so E sto andando un attimo Onora la tradizione dei Racket, usa un pugnale per uccidere due cecchini che sparano aiutanti da una torre La torre dei due cecchini Jason Potter E la torre dei due cecchini Allora Ovviamente non saranno solo due cecchini ma ci sarà tipo il mondo in quella torre Perché è giusto così secondo il gioco I believe I cannot fly Però posso scivolare giù dalla montagna Ok E' un po' Eh 200 metri Sti cazzi Ti appiedi Vabbè Potrò scegliere bene dove arrivare Quindi Allora Tu 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 Quella non è una torre comunque Just saying Allora Tic Vabbene E poi Z Ecco lì uno dei cecchini Suppongo che lì dentro o lì su da qualche parte ci sia l'altro Oh Sta arrivando la macchina La macchina dei racket Nice Eh io non ho fatto nulla Eccolo lì Tu sei uno dei due cecchini che devo uccidere? No Sei un cecchino eh Però non sei quello che devo uccidere Ti ucciderò comunque Because hey why not Ciao Zio Ok 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 Altri due giù Allora Prossimo cecchino Eccolo lì Sei tu cecchino? Sì sei tu Turun 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 Turutututurun Come una tigre nella Savana Yup Ok Il tutto è stato liberato Molto easy E loro sono morti tutti Mi dispiace la chiazza Eh siete stati un buon diversivo Per circa 30 secondi Allora Prossima cosa da fare E andare a prendere Questa teoria Quindi Via di qua Lo so che parlo sempre come Sam Ma Sam è un mito E mi dispiace tanto che sia morto Tantissima A voi non dispiace che sia morto Sam Cioè Sam è tipo Wow Un po' come Vass Compriamo roba E compriamo tipo Munizioni Ricaricami l'inventario Perfetto Poi vendi merda Ehi Poi esci Prendi Quest E' pieno di coca Qua come al solito Ok Comunque la torre è lì sopra Non la di più facile Tutti morti Nice Eh 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 Dobbiamo riuscire a uscire Come diavolo facciamo No eh Che cazzo Chissà se mi attaccano Buongiorno Buongiorno No non mi attaccano Ok Si mi attaccano Morirai urlando Sei tu che sei morto urlando caro Ok Devo trovare un modo per uscire qua Ormai tutti i cazzo di Di cose ce l'hanno con me purtroppo Quindi Cani Ottimo Non volevo altro che dei cani Buongiorno Ok Nice E ora andiamo alla torre Prendiamo lo shredder Because Because The shredder is cool Oh che palle Lol Però grazie del veicolo Molto gentili Andiamo Woo Questo è quello che io chiamo Offroad di cattiveria E poi usciamo di qua Ok Su di qua Giù di qua così E poi Fuck Nice E sali Va benissimo Poi sotto di qua Sotto di qua Sali Ok Poi da qua Sounds complicated Ok Bene anche tanto No Si Più di quello pensavo Fuck Ok Allora Allora Io non ci posso arrivare Da qua Ok Easy Vedete ancora Le ringhiere Voi Su serio Vabbè Ehm Giù di qua Giù di qua così Già Perfetto Così Poi così Poi così E poi così Ok Poi Fuori così Saliamo qua Ok E scala Nice Di solito mi ci perdo Ci perdo le ore Su queste cose Invece a sto giro Bravo Qui ti stai imparando Evidentemente Chieppiamo Questa Chieppiamo Questa Interagiamo Perfetto Yeah Si abbiamo capito Tutto il bel paesaggio Un bunker Una cittadina Di Nessuno Perché non c'è nessuno E Dopodiché Dobbiamo andare Dobbiamo andare Dobbiamo andare Io direi Che questo È il più vicino Ma Sono più o meno distanti E uguali No è questo Il più vicino Cazzo Dai Quindi Andiamo a quello Dove sei? Sei lì E va bene Yeah Ottimo GG Poi Ci abbassiamo E Lì vicino C'è perfetto Ok quindi Z Lui Lui Ce ne sarà un altro Lì dentro Sicuro come loro Lì dentro Mi rifiuto di credere Che non ci sia nessuno Ups Non volevo alzarmi Volevo mettere Lì a questa Lì c'è un tizio Ok Perfetto Lì c'è un altro Tizio Ok Perfetto Se io volessi tipo Fare Così Bravi Di là Tutti di là Camminate Andate a cercare Di là Ma cazzo Non di qua Di là Vabbè Passiamo di qua Uh c'è un altro lì Tizio Ciao Sembra Sam Estremamente uguale a Sam Va bene Quindi Ups Poi di qua E E Dentro di qua Almeno c'è il sole Oh fuck Girati Da bravo Girati Oppure Vai di là Ok Poi Abbatti Yes Ok L'allarme È qua La torciccione è lì sopra Quindi Posso prenderlo Ok Andare qua Fare così Perfetto Poi Super Stealth Quit Oh c'è un altro Pizzo là Ok Ci vorrebbe Una birretta Ci vuole sempre Una birretta Caro Ok Nice Poi questi due Che si sono girati Wow Quindi Nulla di più easy Tiriamo un assassino lì Bravi Ok No 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 That's how we do it Woo Ok Ok ragazzi Questa è stata Piena di tensione Però ce l'abbiamo fatta Abbiamo liberato anche questa avamposto Io direi che abbiamo fatto Allora il ricercato nell'altra Poi abbiamo preso la torre Poi abbiamo fatto questo Quindi dovremmo essere arrivati a tre Vi ringrazio come sempre di avermi seguito Il mio nome è come sempre Quitono8 Ciao a tutti